Il cambio della guardia era nell'aria da alcuni giorni ma ha trovato conferma ufficiale solo nella giornata di ieri con la notizia a trapelare dalle istituzioni sanitarie della Lombardia. Giovanni Pavesi dal 2015 direttore generale dell'Ultz Ottoverica dopo la fusione delle due aziende sanitarie del capoluogo e Ovest Vicentino e agli sgoccioli del suo mandato nel quartiere generale di San Bortolo a Vicenza. L'apprezzato dirigente ha accettato l'incarico di coordinatore riferimento sostanziali della sanità lombarda. Si trasferirà a Milano dal primo marzo mentre si dovranno attendere alcuni giorni per conoscere il nome del suo successore. La nomi aspetta alla regione Veneto che sta valutando il curriculum di più profili in una rosa di nomi da assegnare alle aziende sanitarie territoriali. Al pari di quanto sta avvenendo nell'altra Ulsa Vicentina alla Sette Pedemontana dove il commissario straordinario Bortolo Simoni dovrebbe concludere il suo incarico a tempo prorogato fino al 28 febbraio in ragione dell'emergenza Covid. Aveva ricoperto la casella vacante lasciata nell'ottobre 2018 dal direttore generale Giorgio Roberti, passato a dirigere l'istituto oncologico Veneto con sede a Padova. Tempo di nuovi valzri insomma con i ruoli guida da assegnare e di fatto inaugurato dall'addio del Vicentino Domenico Mantoan a capo della sanità regionale fino allo scorso autunno ora all'agenzia nazionale Agenas avvicendato con il dottor Luciano Flora.